I cartelli con la dicitura cercasi personale oramai non si contano più. Camminando lungo le vie di Belluno e di Feltre, ma anche di centri minori, è quasi impossibile non imbattersi in un'attività commerciale che non sia caccia di collaboratori. E se il problema riguarda in generale un po' tutti i negozi e le categorie merciologiche, per bar, ristoranti, pizzerie e imprese della ristorazione la ricerca è addirittura spasmodica, come testimoniano anche i moltissimi annunci pubblicati sui giornali o in rete. Leonello Gorza gestisce un locale storico, la birreria di Pedavena, che nei momenti di punta dà lavoro ad oltre 100 persone. Anche qui però la situazione è difficile. Il nostro problema ormai non è quello di avere la clientela, la clientela ce n'è tanta, però il nostro problema è servire la gente, quindi il personale facciamo fatica a trovarlo, si trova personale non qualificato, quindi dobbiamo prepararlo. Il problema soprattutto si vede durante il sabato e la domenica. Mai dopo il Covid facciamo sempre più fatica a trovare persone che lavorano il sabato e la domenica. Che fare per invertire questa rotta che rischia di affossare un settore, quello dell'accoglienza e del turismo, proprio nel momento in cui quasi paradossalmente enti territoriali e imprese stanno investendo in genti risorse economiche per la promozione e la crescita? Gorza lancia una sorta di appello ai ragazzi e alle loro famiglie. Io mi rivolgo soprattutto ai giovani che frequentano le scuole. Una volta noi in un periodo estivo avevamo la coda di persone che andavano all'università oppure che facevano le scuole superiori che venivano per lavorare il luglio-agosto. L'anno scorso ho avuto solo tre richieste, quindi io dico anche alle famiglie, mandate i vostri figli a imparare, a lavorare, è una crescita anche per loro. L'anno scorso ho avuto una ragazza che faceva la quarta liceo che non era capace di contare i soldi, quindi veramente abbiamo bisogno che questi ragazzi si svegli. Secondo me, oltre a lavorare, oltre a prendersi un stipendio dignitoso, anche umanamente dentro di loro si migliorano, hanno relazioni con altre persone. Secondo me non è solo il fattore economico, ma una persona che lavora d'estate secondo me matura e diventa più uomo.